Salve a tutti ragazzi e bentornati su... Quei due sul server 2 con un gioco incredibilmente loungioso e rilassoso Ovvero il gioco del vaffanculo, suonano al telefono, arrivano notifiche di gente che carica video su YouTube Adesso lo zittisco Comunque, 8 Pure Pool Lo stai giocando tu, Michele? Ah, sì, però... Inizia il giocatore 2, che è Redez Voglio il mio giocatore... eh, ok Allora, siamo... Posso dovere sta cazzo di freccia che rompe con gli... Giusto, possiamo iniziare A tutti gli amanti del biliardo Biliardo, quella gli... Quella gli di gli altri Noi ci siamo dilettati come professionisti, professionali a biliardo Ah, hai preso le piene Ho preso le piene Oh, abbiamo messo... abbiamo messo la difficoltà a maestro Cioè non si vede la guida? Cioè non si vede la guida, non si vede niente È proprio molto reale, guardate quanto sono fatte bene le palle Non c'è l'unicorno, eh? Non c'è l'unicorno, non c'è il gatto in realtà Chissà se riesco a farti un tiro di quelli decenti Fateci sapere... Nooo... Bello, bello, è venuto bene il tiro Lo puoi riposizionare dove vuoi adesso Allora, i tuoi le piene, vero? Sì... e lasciale lì dove sono le mie piene Ma comunque lo posiziono un attimo qua che... ecco qua Ragazzi, è molto simpatico il biliardo Speriamo che vi possiate, ecco, realizzare, realizzare Guardate, possiamo mettere il cazzo che vi frega nella... perché così potete scegliere l'effetto della pallina, capito? Riposare con noi, perché questo è un gioco Vaffanculo, devo prenderci la mano Scusa, dice... No, niente, niente Allora, io mo... Perché te la fai riposizionare, sta... Perché non hai toccato niente Allora, io mo... Queste regole serbo croate Io mo, proprio perché... T'ha messa lì la palla Mo ci provo a metterla tipo qui, va bene? Vai Facciamo due tiri fatti... Porco zizzero Stiamo giocando col joypad Ed è... dobbiamo prenderci un po' la mano Infatti, sarebbe molto meglio col mouse Porco zu, zu, zrellone Mi è partito il... il coso Hai visto, è un bordello Ragazzi, stiamo facendo un sacco di cappelle, lo sappiamo Ma prima è bello che abbiamo giocato con le guide Abbiamo detto, no, è troppo semplice, la partita dura troppo poco Facciamo i professionisti di sta ceppa di minuto No, guarda che ti faccio adesso La 8 non la puoi toccare Non la posso toccare, non la posso mandare in buco Sì, ma dopo mi dovrebbe dare... tocchi la 8 Mi da la palla da muovere come voglio io dopo Sei sicuro? Sì, sono le regole Ma che cazzo di regole valorte Ancora con questo effetto, ma senza incapaccio a tirare dritto No, ci provo, ci provo, perché ho in mente un'idea Allora, ti faccio vedere, guarda, guarda Allora, la mia idea è quella di mandare in buca la palla arancione Però per farlo devo... Palla arancione, come fai a mandare in buco? Cioè, scusami, la palla rossa nel cazzo in culo all'arancione verde Capito? Professionisti all'ennesima potenza Ma dai, ma che è? Complimenti Ma perché va a manetta? Complimenti Sì, ma era un tiro Bravo per aver fatto uscire la palla Ma è troppo potente il tiro L'hai fatto tu, non l'ho fatto io Io ho tirato di merda prima Vai a tirare di merda anche adesso No, no No, guarda, faccio questo Mi vergogno, però Perché... Oh... Adesso vorrei tirare decisamente meglio di come sto facendo ultimamente Orco, un zio No, ragazzi, adesso è riscaldamento questo Siamo ancora cercando di capire Allora, questa palla qui Poi se vi piacerà ne faremo molti altri Questi gameplay rilassanti BORCA TROIA Non ho capito Bravo, veramente bravo Siamo a fare una figura di merda dopo l'altra Non lo so fare Quello si era capito L'unica cosa che si era capita era che non lo sapevi fare Come cazzo si fa? Allora, io mu metto una palla in buca Quella Non l'odio Questa penso di poterla mettere in buca Ok, allora Se ho capito una cosa a questo mondo Devi tirare piano MADONNA L'oppo piano Ma Dio caro, però Mi hai lasciato una palla di merda Beh, sì, in effetti è un po' intirabile Però con la B puoi mettere le... A livello maestro Ti va a puttane la palla Quando tiri in quella direzione Buona sapersi Ragazzi adesso Adesso iniziamo a giocare bene Sembrava che Invece Sì Bravo Valla bianca in buca La sorata La conosci sorata? Orca troia Questa è difficile Non la so fare Allora aspetta Mo devi toccare una... L'unica palla vicina A quella che puoi toccare tu È quella Allora adesso provo a fare Un super rimpallo Di rinterzo alla sinistra guarda che quella è la mia palla adesso me la fa riposizionare no 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 ok meglio cosa è meglio ma perché te la fa riposizionare perché hai toccato le mie sono tre volte che te lo dico ma perché non le devo toccare non le devi toccare le mie devi toccare solo metti le mani apposto è uno contate ragazzi fai uno dei tuoi numeri vai stopper come mi chiamano è una puntata di Boris che lui non sa chi cazzo sia Sergio Bello che continua a dirgli stopper pensando che sia un un soprannome ma perché me l'ha fatta riposizionare ma è una vita che te lo dico nessuna biglia ha colpito cosa ma l'ho toccata la biglia ma che hai toccato oh si è mossa ma non hai toccato niente il motore grafico questo è mosso donna che se non andavi grazie gliel'hai messo davanti madonna che tiro che devo fare ma devo fare il tiro il cosiddetto tiro oh signori lì in fondo per favore via quella è la mia la palla quella è la mia yeah onoreficenza ottenuto in buca una biglia e non si è capito cosa leggerete voi nei commenti in buca una biglia con stile quella era la cosa caccia di una putt mi hai spostato pure la palla ah proprio hai rotto le balle si è il turno di giocatore 2 con le biglie le biglie ma si dice biglie so che si dice biglie ma fa strano però fa ridere prova eh oh caccia loca le biglie guarda 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 che entra guarda che entra guarda che entra arrestata dalla tracotanza della mia palla guarda quelli come stanno tranquilli a fare un cavolo a mangiare schifezze in questo pub da 4 soldi ah eh questo è dentro eh non è dentro detto non è dentro questo è dentro me lo sento me lo sento che madonna il tiro di merda che hai combinato ma io di solito ci gioco bene a questo gioco oggi oggi sei giù di cuore guarda già mi sono trovato preciso hey come vediamo in buco una biglia con una combinazione ho fatto una combinazione addirittura mi hai fatto un gran combo mi sento importante la fatali sono anche le chitarra appese mi fai vedere però fammi vedere che sta succedendo a quella parte tocca a te eh ma va anche se non ho visto quello che è successo zitto zitto questa la puoi mettere stai zitto cazzo mi sta portando una sfiga nera solitamente con le palle sono un po' più fortunato a me con quelle di peggo ma ti immagini peggo con una grafica così sarebbe bellissimo forse sarebbe la merda non lo so allora qui provo l'impallo di di terzo di ecco proprio quello che volevo fare guarda tocca la otto la sposta e invece va in buca l'altra sì allora il tono di io è con le billie rigate tre billie rimaste sì ma io come cazzo faccio ancora questa cosa qua che vuoi destirare effetto alzati fai vedere la situazione alzati bravo adesso basta la situazione è pure buona perché mira precisa ah capito con la mira precisa vai più vai piano piano sì proprio il contrario di quello che volevo fare però se entrava se entrava avevo culo ok però tu me la puoi metterla sperando che becchi la otto eh mo veramente veramente guarda come sono concentrato guarda vai ah che tiro che tiro da professionali eh guarda qua guarda che culo tre si è messero in fila questa va dentro ah ed è entrata dentro ragazzi attenzione un'altra possibile papabile biglia guarda che si sta recuperando oh no bellissimo no fallo imboccato la biglia battente puoi di pure cazzo non sono abituati no però dai era buono se avessi tirato un po' più lentamente io la metto qua poi non lo so tu vai vai sembra quasi di essere al pub è vero ma la prossima partita la facciamo con una birretta si ce l'abbiamo una birretta poi ce la facciamo magari a limone che sono tre gradi ho fatto pure come faccio normalmente hai visto faccio finta di saper giocare la hai quasi bleffato possiamo dire che hai bleffato non ho bleffato ho solo fatto finta di tirare indietro la mazza come faccio solitamente cristio hai toccato la mia però colpito la biglia sbagliata questo vuol dire che il red adesso la metti guarda guarda aspetta guarda che stronzo così così non la tocco la biglia sbagliata vai tira fai questa biglia donna che sirlecchia gli ho menato sei andato di violenza oh attenzione ragazzi attenzione attenzione c'è il reddits selvatico pronto con la biglia guarda noooch 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 è quello di mine tre biglie è rimasta creeper edge shot attenzione che questo è un tiro ottimo se non lo sbagliasse parca di roba ma io non ho capito come cazzo si fa capire grazie come non si fa capire non capisco se la tocco o no è sempre è sempre sgamba la visuale forse perché devi non lo so cosa devi fare ma adesso la metto così ti libero da un problema che dici ecco qui dai che entra che cazzo se non entra questa oh puttana dai ci sono andato tranquillo tranquillo tanto me l'hai messa in una posizione del cazzo ma guarda la palla sempre la prossima volta te lo dico che non la stai prendendo la palla ma è sempre sgamba la visuale ma non è sgamba vedi qua funziona benissimo guarda la metto pure qui ti credo tu dovresti appiazza tutte se tu sbagli ma non si vede purtroppo la visuale è pessima è pessima ti puoi alzare ti alzi fai così e fai sì ma poi tu ma poi torni allora poi la metto così sì ma se io non so dove colpirla ok che devo mettere la 8 in buca 8 in buca d'angolo ragazzi attenzione vedi questo è un tiro difficile perché è sfocato tutto quando sta imbriando perché senti il patos il patatos oh e dai e basta con sto corazón guarda ti metti l'agitazione ma veramente dai dai attenzione attenzione ma bellissimo c'è un rallenty con tanto di gesto che schizza no no sto gioco è bello va bene ragazzi noi ci vediamo al prossimo game play è veramente carino fateci sapere se ne volete altri noi mo ne facciamo altri poi cazzi vostri se vi piace o no io ne faccio altri ciao 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 ciao